La strada del progresso è di fronte a noi. Noi di LC3, pionieri del trasporto sostenibile, l'abbiamo intrapresa da tempo, nel 2010, introducendo risorse energetiche alternative, oggi anticipando quello che sarà il mondo del trasporto di domani. BES 2030 è il percorso che ci guiderà per i prossimi 10 anni. Seguiremo tante strade, nuovi carburanti e tecnologie innovative, una logistica più strategica e condivisa, la formazione di una nuova generazione di professionisti del trasporto, preparati e responsabili. Una sfida che porteremo avanti da protagonisti. Con obiettivi concreti, con le nostre donne e uomini migliori, con la consapevolezza di avere tecnologia, mezzi e risorse da investire, con l'orgoglio di essere un'azienda leader, ma anche con il senso di responsabilità di far parte attiva di un progetto che va oltre il trasporto. La strada del progresso non si percorre da soli. BES 2030 è una missione che ci inserisce come attori di una sfida globale. Abbiamo preso un impegno con l'ambiente, prendendo parte alla missione dell'Unione Europea, arrivare entro il 2040 alle zero emissioni. The Climate Pledge è il progetto che ci vede protagonisti insieme a 200 tra le più importanti aziende del mondo. Il futuro di LC3? Trasportare idee e soluzioni, portarle alle aziende e alla collettività, consegnarle a nuove generazioni perché ne facciano tesoro e a loro volta le migliorino. BES 2030 è un viaggio che ci porta al traguardo dei prossimi 10 anni. Prossima tappa. Parigi 2040.